ben ritrovati a tutti cari amici dal vostro nicola de lucia ebbene sono qui in questo secondo video dove funziona la mia presenza per oggi per parlare non ve la prendete con me cari amici giuventini ma il verona fa uno scappellotto e bianconeri andando a vincere rimonda per 2 a 1 nonostante il gol di cristiano ronaldo al 65esimo del secondo tempo rimonda dal verona con bolina settantaseesimo il rigore fatalissimo di pazzina l'ottantaseesimo vittoria del verona molto molto votata benissimo dai bookmaker 6 e 25 570 588 6 dal punto di vista della classifica il verona è al momento in non incredibilmente io direi in maniera giusta e corretta sesto posto con 34 punti la juventus invece alla sua terza sconfitta in questo campionato è la seconda nel giro di delle ultime cinque partite la precedente arrivati in casa del napoli per 2 a 1 e quindi è prima la juva 54 punti ma l'inter in caso di vittoria nel derby questa sera la possibilità di pareggiare i conti con la juventus aggaggiando le zebbre bianconeri a 54 punti ovviamente poi bisogna tenere conto anche della lassio e quindi chiudo il collegamento ribadendo il verona vince in rimonte di fronte al pubblico amico contro la juventus per 2 a 1 grazie al sorpasso finale di passini con il rigore ciao a tutti